La serie di incontri serrati tra i rappresentanti del Tribunale di Teramo, prima con i vertici del CSM e subito dopo con quelli del Ministero della Giustizia, ha portato a risultati concreti e sostanziali. Il di Castero, guidato da Marta Cartavia, conferma l'arrivo a Teramo di due nuovi giudici e cinque impiegati. L'ultima riunione a Roma è stata lunga e articolata. Alla delegazione guidata dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Teramo, Antonio Lessiani, il capo di gabinetto del Ministro, Raffaele Piccirillo, e i capi di partimento hanno ribadito la prospettiva suggerita dal Sottosegretario della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e dunque garantito di fatto l'arrivo di nuovi rinforzi. Ci hanno ascoltato e dato ragione, afferma il Presidente Lessiani, ma hanno anche confermato che le piante organiche non possono essere modificate se non su base nazionale. Il tentativo di soluzione al problema passerà per l'assegnazione di nuovi giudici sulla base della pianta organica distrettuale, dato che Teramo ha tutti i requisiti per farne richiesta in termini di arretrato delle cause, turnover dei magistrati e durata dei procedimenti civili. I bandi usciranno nei prossimi mesi e quindi, tra la fine dell'anno e l'inizio del 2023, potrebbe già esserci qualche novità. Inoltre a livello amministrativo è programmato l'afflusso di cinque impiegati nell'ufficio del processo di Teramo, a supporto dell'attuale organico. È un percorso difficile quello che abbiamo intrapreso, conclude Lessiani, ma Teramo in questo momento è oggetto di un'attenzione particolare, grazie alla nostra mobilitazione e a quella di tutta la categoria forense e della comunità dei cittadini.